Lanciare il percorso Dual Career in Lewis è stata un'arma fondamentale per attrarre studenti che altrimenti avrebbero lasciato il nostro paese. Quindi noi siamo contenti di aver ideato per più in Italia questo modello che bilancia la carriera universitaria con la carriera sportiva e speriamo anche di essere attrattivi verso studenti non italiani in modo da rafforzare ulteriormente la nostra posizione competitiva a livello internazionale. Questa diversità la consideriamo un'università dinamica, moderna, incisiva e dove l'innovazione ha un suo protagonismo positivo. Quindi quando ci hanno chiesto di coinvolgerci in questa iniziativa l'abbiamo fatta con un estremo entusiasmo sapendo che era lo strumento giusto per poter propagandare un messaggio importante come quello della sicurezza stradale che coinvolge tutti i nostri giovani. Ho scelto il percorso Dual Career perché secondo me per un atleta è fondamentale riuscire a coniugare lo sport con lo studio. La Lewis mi sta dando questa possibilità, sono molto orgoglioso e spero di riuscire a portare a termine tutti i miei obiettivi sportivi e anche di studio. Dual Career dà importanza al fatto che posso continuare il mio percorso sportivo così come quello didattico, metterli sullo stesso piano e andare avanti in tutte e due. Scegliere la Lewis per il mio percorso universitario perché mi è stata proposta questa possibilità che secondo me coniugava molto bene la parte sportiva con la parte di studio. A scegliere la Lewis sicuramente mi ha spinto la flessibilità che hanno anche per la scelta dei tutor e sicuramente hanno una formazione importante che mi sta aiutando a capire bene quello che sto studiando e quindi le ringrazio molto.